Vincenzo Nibali Io credo che all'interno dei 21 giorni non si poteva fare diversamente, abbiamo cercato ognuno di noi, ogni leader di interpretare a modo suo il proprio giurio d'Italia e comunque il secondo assoluto non è un risultato da poco. Sei ad un solo podio di distanza dal record italiano di Felice Gimondi come numero di podi nei grandi giri e a due da quello di Jacques Anquetil, ammettilo, sei già tra i grandissimi, tra i monumenti del ciclismo, ma quanto ti stuzzica questa possibilità di eguagliare, magari superare questi record, quindi a proseguire ancora per altri anni? Ma non penso a questi record perché io lo faccio con grande dedizione, questo è il mio sport, il mio lavoro e quindi ci metto la passione e dalla passione arrivano anche dei risultati, a volte possono essere degli ottimi risultati e a volte possono essere anche un po' più negativi. Comunque alla fine cosa devo dire? Intanto pensiamo ad andare avanti così e cercare di raggiungere altri risultati e poi vediamo. Riccardo Mangrini ha detto che tu hai una situazione anche familiare che ti dà serenità, quindi lui è convinto che tu possa gareggiare ed essere competitivo fino a 39 anni. Non lo so, vediamo, sicuramente fin quando c'è la grinta e la passione di voler fare questo al massimo e anche il fisico dà un grande supporto sicuramente si può fare. Poi nel momento che io ritengo opportuno di doversi fermare, questo poi lo vedremo. Parlaci bene nello specifico, cosa è successo veramente nella tappa di Courmayeur, c'è quel tatticismo con Roglic, cosa è successo veramente e cosa ha fatto sì che Carapaz prendesse poi tutto quel vantaggio? Ma sostanzialmente non è successo niente a Courmayeur, Carapaz ha fatto un'azione su un contraattacco, quindi c'era stata già una fase di attacco prima anche mia, anche di Landa dove avevamo già rintuzzato e Carapaz è stato molto bravo a saper rispondere, a guadagnare subito in un primo momento in salita dei secondi, poi nella prima parte della discesa ho accelerato io e subito dietro poi anche con Roglic abbiamo trovato una sorta di accordo, però poi nella fase finale degli ultimi 6-7 chilometri con l'ultima salita eravamo ridotti a un gruppetto di circa 5-6 corridori, diciamo ci siamo un po' fermati ma questo era dettato anche dal fatto che le gambe a fine tappa, con una tappa dura come quella che avevamo affrontato, erano un po' quelle quindi il vantaggio che poi ha accumulato Carapaz è stato un vantaggio che è determinante per la vittoria finale del Giro. Tra poco più di un mese ci sarà il Tour de France a cui tu hai detto che non eri proprio d'accordissimo di partecipare, probabilmente avresti preferito la Uelta ma ovviamente hai assecondato quelle che sono anche le esigenze della squadra, hai parlato di non avere pressione di presentarti al Tour per vincere possibilmente qualche tappa e magari la maglia può, ma è un approccio diciamo a fare i spenti e poi non è detto che tu faccia classifica? Ma vediamo, intanto abbiamo catalogato il Giro d'Italia così e c'è un tempo per poter recuperare un po' di energie e poi per rimettersi di nuovo in moto e pensare poi al Tour de France ci sono diverse ipotesi e poi le valuteremo strata facendo. Secondo me sono due i più grandi rimpianti della tua carriera, uno che purtroppo non è di peso da te che è stato quello del Tour de France dell'anno scorso e poi quello delle Olimpiadi di Rio 2016. Adesso ci sarà una nuova occasione a Tokyo, hai già visto il percorso, che ne pensi e se credi di poter essere protagonista anche in Giappone? Non ho visto ancora il percorso giapponese per quanto riguarda le Olimpiadi, cosa posso dire? Purtroppo alcuni incidenti e fatti possono capitare in gara come sono accaduti a me, possono capitare anche ad altri corridori purtroppo fa parte anche del gioco, insomma vedere questi inconvenienti durante le corse. Grazie a tutti!